Ieri ho scoperto l'esistenza di uno wufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf Sui creatori di contenuti Gli influencer di fumetto non venduti Cioè ce ne sta uno su Gli influencer di fumetto In cui ci siamo anche io e Marco Grazie Vi ringrazio molto Ma queste cose fanno sempre un po' così Perché non mi sento in grado di fare questa cosa Ma a parte quello Ce n'è una su quelli non venduti In cui ovviamente non ci siamo Perché noi siamo dei venduti E questo diventa un meme Questa cosa qua Io Raga veramente Io la cattivaria umana Io penso che Che possa andare oltre al mondo Ma questa è veramente una cosa gratuitissima E poi la cosa brutta La cosa che veramente mi fa Mi fa dire Ma perché sto mondo è fatto così Ci stanno anche altri creatori di contenuti Che so contenti che esista E quindi lo fanno Perché Vogliono ribadire Che loro non sono venduti Ma ci stanno dei creatori di contenuti Che sono venduti E sono quelli che fanno Invece i numeri quelli grossi Perché Io non mi vendo E non riesco ad arrivare Mentre lui che è un venduto Riesce ad arrivare No raga No raga Non funziona così Non funziona così Allora Sto mito del fatto che Si può arrivare sempre Con il lavoro Oppure si può arrivare sempre Facendo dei compromessi Non è così Non è così Raga a volte si lavora una vita E non si riesce ad arrivare Al proprio obiettivo Perché Beh perché Gli astri Non si allinea Non lo so Perché raga Non lo so Perché a volte invece Proprio con una facilità terribile Si arriva All'obiettivo E in questo Vendersi Non vendersi Non c'entra nulla Alla fine Alla fine Se non c'è la sostanza Non si arriva Anche se A me sta cosa Mi ha fatto veramente Ho detto Ma perché Cioè Perché Anche Soprattutto fra di noi No Se oggi danno del venduto a me Perché ho 6.000 iscritti Domani lo daranno a te E E sto Circo Continua Continua a girare 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 Non si ferma mai E Mi dispiace Mi dispiace tantissimo Di questa cosa qua Io vi Vi confermo Vi confermo Che non son venduto Ve lo confermo Che Questa passione del fumetto È una vera passione Che ho ripreso In tempo di covid Anche per Magari qualcuno di voi Non lo sa Anche per Dare qualcosa da fare Di interessante Ai miei figli Quindi Fagli leggere fumetti Siamo ripartiti dai topolino E poi abbiamo sviluppato Un po' di più Il nostro gusto Un po' di più La nostra curiosità Siamo andati avanti Però Io ci rimetto Cioè Nonostante Mi rimandano Una serie di fumetti Mandano I pdf lettura Mi mandano Una serie di fumetti Alcune Belle realtà Di fumetti Che apprezzo Ovviamente Ci rimetto Perché raga Fa uno Due Tre video al giorno Anche mettersi davanti Alla telecamera Trova quei cinque minuti Da togliere A tutto quanto Il resto È comunque Un impegno Alla fine È la moneta Più grossa Che abbiamo Ragazzi Il nostro tempo E infatti Anche per quello A me Fa i video Lunghissimi Mi mette un po' così Però poi li guardate Quindi dico Allora forse Saranno Saranno utili Quindi No Vi confermo No Non sono venduto A nessuno Anzi Anzi Il fatto Il fatto che dico Quello che penso E lo dico Apertamente E sono Poco paravento Mi mette spesso In difficoltà Anche con Amici Persone con le quali Ho fatto amicizia In questo mondo Autori Editori Disegnatori Grandi Piccoli Poi ognuno È fatto a modo suo Quindi Smontare O quantomeno Fare una piccola critica Al proprio prodotto Non piace a nessuno E quindi Raga Vi volevo dire Semplicemente questo Sono partito Da questo Uufufu Adesso l'ho detto bene E volevo arrivare a questo Volevo arrivare a dire Per cortesia Abbassiamo i toni Abbassiamo i toni Cioè È vero che l'anonimo Ha fatto La lista di quelli Che secondo lui Non sono Creatori di contenuti Venduti Però non è che Gli dobbiamo Da visibilità Non è un vanto Per noi Questa cosa Non è un vanto Non è un vanto Che poi Mi incontri Mi incontri In fiera E mi viene A fare complimenti Cioè Non me ne frega nulla Non me ne frega nulla Oggi Pomeriggio Registro Se ci riesco Spero di sì Un video particolare Su Drago Nero Ve l'avevo già anticipato ieri Ma Mi è venuto in mente Di aggiungere Un approfondimento Su un personaggio A questo punto Va approfondito Per forza E credo Che i miei prossimi video Saranno tutti quanti così Ci sarà proprio Un bel approfondimento Speriamo Per voi Che sia bello Su un qualcosa Su un personaggio Una situazione Del fumetto Proprio Parliamo del fumetto Moi nella parte Fra virgolette Spoiler Che non è nella parte spoiler Che non spoilerò la trama Vorrò parlare Di un momento particolare Del fumetto Che casomai Non è il momento Importante Per tutti Ma è stato Il momento importante Per me Magari può essere un'idea A più tardi Ciao belli